La conoscenza, nel senso il rapporto appunto tra politica, conoscenza, partecipazione, eccetera, il fatto che i virologi, i biologi e gli epidemiologi si scontino in televisione invece di costituire, come dire, dei luoghi dove appunto il triangolo tra il luogo della decisione politica, la produzione scientifica e le vie di condivisione della conoscenza e quindi le forme di partecipazione, di organizzazione della società, beh tutto questo non accade. Cioè quello che succede oggi, a parte appunto l'esito di Trump e Bolsonaro, l'inglese si è spaventato perché se l'è presa, quindi ha fatto un passo indietro. Ma diciamo in questo momento una serie di, anche qui all'inizio del secolo si parlava molto della partecipazione, quindi Porto Alegre appunto era il luogo dove c'era la partecipazione organizzata che implicava una, forti processi di condivisione della conoscenza, di trasparenza e di trasparenza delle fonti e degli atti amministrativi e quanta, ecco, in questo momento, come dire, certo il capitalismo cinese non è proprio il massimo che fa la concorrenza dei Stati Uniti, il massimo della partecipazione come popolare, come in una società che ha un uso evidentemente quasi forse nato della tecnologia. Ecco, quindi questo rapporto, questo problema della politica che tu Roberto sollecitavi appunto in questo momento è in rapporto allo sviluppo della tecnologia è assolutamente problematico. Ecco, mi sembra che i rapporti di forza, per usare un termine classico, siano molto a nostro sfavore rispetto alle premesse. Quindi magari c'è proprio un problema di analisi della situazione, dell'analisi concreta, insomma, no? Ritorniamo al metodo, abbiamo dei problemi di metodo che sono quelli che come sinistra abbiamo cercato di applicare, a parte gli spunti soggettivi. E però in questo momento sono molto difficili, però penso siano necessari. Ecco, io non dico che sono spaesato, diciamo, mi trovo personalmente con un tavolo di lavoro ingombro di cose e faccio fatica a mettere ordine. Ecco, tanto per usare una metafora e qui la chiudo. Posso? Prego, prego, Giancarlo. Sei sempre di una grandissima, come dire, onestà intellettuale. Cogli sempre il nucleo del problema. Né, solo questo volevo dire. Non l'ho pagato, eh. No, 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 quello sicuro no. No, la cosa adesso magari Sergio ci... Vi dico la mia. Esatto. Bravo. Sì, la tua che... Sì, l'ascoltiamo con senza pregiudizio. Sì, no, volevo solo dire che adesso magari ho iniziato a registrare dopo che avevamo iniziato a fare due chiacchiere, quindi ripeto la domanda iniziale che non ho potuto imprimere nella memoria del computer. e l'idea appunto quella di fare una chiacchierata tra di noi su la dimensione della trasformazione del capitalismo digitale, su quello che sta succedendo ormai da decenni, e quanto, diciamo, questo influisca nella dimensione della politica. Cioè, come la sinistra affronta questo tema, come sia necessario rimodulare il pensiero della sinistra su questi terreni, e penso che, insomma, Sergio da parecchio che su questa cosa ci ragiona, ci faceva piacere avere un po' uno scambio di idee tra di noi. Io intanto una premessa. Vi chiamo per cognome, se no vi confondo, questo è Morea, non capita spesso essere in cinque persone e avere due persone con lo stesso nome. Io sono spesato tanto quanto rosso, forse però con qualche elemento di differenza, perché è qualche decennio, non qualche anno, qualche decennio, per un caso fortuito, che se volete vi racconto anche, ma, insomma, è un qualche decennio che mi sto scervellando su quello che avrebbe significato, e poi sta significando, la rivoluzione digitale. Fu un caso, questa cosa, negli anni Ottanta, perché accadono due cose che mi fecero capire che il mondo stava andando completamente... ne accadde una cosa e poi politicamente ne accadde un'altra. La cosa che mi accadde è che io ero un delegato abbastanza importante, ero in produzione, un delegato in un'azienda particolare, che era la Fininvest, un delegato della CGL, un rappresentante sindacale aziendale, come si chiamavano a quel tempo, perché non ci consentivano ancora di fare le votazioni dentro quell'azienda, e ero stato sufficientemente bravo da costruire la CGL del Polatini, per portare i lavoratori a conquistare il contratto nazionale. e quello mi aveva messo in una certa relazione con la CGL, mentre per divertimento facevo il segretario di zona del PC nella mia città, Roma, e quindi avevo fatto tutta la mitanza politica che si faceva a quel tempo, partendo dai giovani comunisti della sezione, e poi andando avanti e avanti, piano e piano, il segretario di sezione, tutte le cose che si facevano fare a quel tempo, a suon di manifesto e peccati ai muri, e di volantinaggi e di vendite dell'unità, tutte le mattine alle 8 della domenica. Che cosa accadde un giorno, improvvisamente? Io ero molto bravo a contrattare, quindi appunto ero riuscito a fare questa cosa miracolosa, di far mettere la CGL, farla diventare il primo sindacato dentro la Fininvest, anzi farla entrare e farla diventare il primo sindacato. E a Roma contrattavo molto bene, perché ovviamente era la mia città, avevo le mie strutture, si può dire che qualunque cosa riguardasse il mondo del lavoro della Fininvest, passava per lì. addirittura Berlusconi mi cercava direttamente quando c'aveva un problema. Un giorno, improvvisamente, arriva una scatola, io dirigevo una struttura che era la centrale video romagna, dove arrivavano tutti i segnali, diciamo, satellitari e via terra, dei contributi televisivi, degli stavoli, le trasmissioni, tra noi le RAI, le cose, eccetera, centrale che mi ero anche costruito, diciamo, fisicamente, insieme ai lavoratori, ovviamente. e questa scatola contiene un ulteriore monitor con una scatoletta vicino, che era un computer, che fino a quel momento stava soltanto al piano di sopra dentro l'ufficio di amministrazione. Io non capisco che cose del computer lì da noi, in centrale video, poi arrivano delle lettere, dei fax, e mi dicono questo computer va connesso in questo modo alla rete interna di comunicazione, perché noi avevamo una linea riservata che utilizzavamo i polsi di prosperimento, eccetera, eccetera, e con un'altra comunicazione viene fuori che da quel momento in poi le direttive sull'organizzazione del lavoro io non le potevo più discutere con il piano che c'avevo sopra. Mi arrivavano direttamente da Miano via posta elettronica. Siamo l'anno dell'85. E io lì capisco subito, capisco che mi hanno fottuto. Io non so più in grado di contrattare nulla, perché a me mi arrivava una email con le indicazioni e non avevo nessuna controparte. Ovviamente vado subito, corro il sindacato, a quel tempo era appena andato via Sandro Gardulli, era arrivato con un compagno che si chiamava Pettino Trulli, che veniva dai Braccianti, era stato il segretario generale dei Braccianti, responsabile di organizzazione del PC in Puglia con Massimo D'Alema, segretario nazionale dei giovani del Psiup, una persona splendida, un intellettuale sopraffino, venuto come tutti quelli intellettuali dalla gavetta, dimozionato di dirigere i Braccianti, partendo dalla Puglia, che peso aveva dentro la CGL, corro da Peppino, gli dico, Peppino, qui è un disastro, qui ci stanno sbantellando il sindacato, che è quella roba là, e lui mi dice, Sergio, mettiamoci a studiare che cosa significa questa roba. Me la faccio breve, un anno dopo, io ero in segretario nazionale, e con Peppino proviamo a fare un'operazione. Lui dice, me la incollo io, perché io sono un dirigente nazionale, tu sei un ragazzino, appena arrivato, eccetera. Qui bisogna costituire immediatamente quello che all'inizio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, fu l'invenzione di inventare la FIOM, cioè il sindacato degli operai di Medelluttici, perché quella era il punto del conflitto centrale con il capitale. Qui bisogna costruire l'equivalente di quella roba con il digitale, perché se no qui ci potono. Iniziamo uno scontro in CGL e ovviamente chi abbiamo contro più fortemente in maniera decisa? La FIOM, che ci dice che sostanzialmente non hanno capito un cazzo. Vi assicuro che in una lunga dissertazione nella direttiva della CGL, quando mi fecero fare un intervento da ragazzino, cioè ci ha avuto neanche 30 anni in quel tempo, quando spiegai quello che stava avvenendo dentro la produzione con l'avvento del digitale, si alzò un compagno, non mi ricordo bene di quale territorio, di quale categoria, che disse vabbè, ma chi è questo ragazzino che ci sta, adesso l'ha detto in romanesco, ma era un dialetto del nord, che ci sta dicendo che bisognerà fare il contratto di quelli che lavorano al computer? Ma andate a chiacchare, parliamo di cose serie. Questa era la roba. Io ho chiuso il mio intervento dopo questa interruzione dicendo non ci avevo pensato, ma secondo me tra qualche anno la stranella maggioranza dei lavoratori lavoreranno su uno schermo con un'organizzazione del lavoro analoga e non sarà importante di quale contratto nazionale faranno di riferimento, perché ognuno lavorerà nello stesso identico modo con la stessa organizzazione del lavoro e forse dovremo fare proprio il contratto che tu dici che sarà un agazzato. Ovviamente andò a finire in che modo? Che la FIOMA vinse, che gli OPEVAI vinsero, a me mi buttarono fuori dalla cigella, mi ribandarono in produzione, a Peppino Trulli gli fecero saltare la direzione politica della categoria e gli regalarono la possibilità di avere una via d'uscita andando a fondare lo Svile, una società a molti servizi che doveva fare la formazione per la CGL. L'unica cosa che ci fecero realizzare fu un corso di formazione, di alta formazione per la CGL per i quadri del futuro che ci fecero fare con quello che doveva essere l'abbozzo della nuova categoria, cioè i lavoratori che stavano nel mondo dell'informazione e della comunicazione, i lavoratori postali e delle comunicazioni e i lavoratori dell'informatica. Ovviamente se 30 anni fa poco più, poco meno, diciamo 30 anni fa il mondo del lavoro avesse capito che quello era il luogo dove iniziare un conflitto di nuova generazione e avesse sperimentato forme nuove di conflitto, noi oggi non ci troveremmo in questo modo, non ci troveremmo qua. questo è il punto. E devo dire che quando Fausto Bertinotti mi chiese di collaborare con Rifondazione sostanzialmente io gli posi un solo una sola condizione. Io volevo un dipartimento che lavorasse su quei comparti per provare a costruire un conflitto capace di stare all'altezza di quella grande trasformazione digitale. A lui siccome non gli importava moltissimo né delle poste né delle DLC né dell'informatica né tantomeno della RAI o del mondo dell'editoria di tutto questo mondo qua proprio era cioè se c'era non c'era non aveva molta importanza. Mi disse bene si occupatene tanto non se ne occupa nessuno e nessuno se ne voleva occupare poi alla fine della FIER io provai per tanti anni a provare a portare vi potrei far vedere un documento lo trovate anche sul mio sito la conferenza nazionale del dipartimento comunicazione di rifondazione comunista del 1995 con la mia relazione produttiva dove pongo i temi che oggi stiamo discutendo come elementi strategici dei nuovi conflitti che noi dovevamo innescare con il capitale con le conclusioni di Alfonso Gianni che ovviamente diciamo così ebbe un atteggiamento analogo a quello che potete ben immaginare ma non per io adesso non voglio nessun tipo di sto raccontando questo semplicemente per una ricostruzione storica di quello che era possibile fare e di quello che non è più possibile fare oggi purtroppo perché beh perché se 30 anni fa partendo dall'Italia ovviamente non solo in Italia perché questo era un conflitto globale se 30 anni fa il movimento dei lavoratori avesse cominciato a sviluppare forme di contrattazione e di conflitto sui territori del digitale probabilmente l'indirizzo complessivo dello sviluppo del digitale sarebbe andato in modo completamente diverso oggi questa cosa a mio avviso ha sfondato tutto quello che era possibile sfondare per dirla con Gramsci ha costruito l'uomo di cui necessita per il suo sviluppo basta andare in un pomeriggio in un centro commerciale di un sabato anche ora voi trovate le città che sono vuote non so se girate un pochettino ma voi andate dentro un centro commerciale di sabato pomeriggio vedete quello che succede e basta vedere i comportamenti intorno alle tecnologie che noi ci portiamo dietro da parte delle persone dagli smartphone scendere giù noi siamo entrati in una fase completamente nuova che io ormai da qualche anno chiamo di transizione perché chiamo di transizione e la fase che stiamo vivendo non è una fase di crisi del capitalismo qui stiamo vivendo una fase di transizione perché c'è una forma nuova di estrazione del valore che si sta candidando a costruire le proprie istituzioni le proprie regole le proprie forme decisionali collettive stiamo parlando di altro la transizione non è semplicemente il fatto che c'è qualche elemento congiunturale da tenere un po' a pallino per cui con un po' di investimenti un po' di roba qui stiamo parlando di una rottura che avviene su tutti i piani dell'esistenza umana tutta molto più grande di quella che passò con la transizione dalla società agricola alla società industriale forse moltiplicata per cento in termini di profondità di trasformazione dell'umano della sua vita in relazione al pianeta e delle relazioni sociali che costruisce noi non possiamo pensare oggi di affrontare questa roba con la cassetta degli attrezzi del conflitto sul salario o sull'orario questa roba qua non ci porta più da nessuna parte è la mia l'ho fatta l'ho fatta fisicamente cioè facevo i contratti nazionali la conosco se fosse così sarebbe tutto semplice ci gireremmo diremmo casomai non va bene quel dirigente sindacale ce ne vuole un altro non va bene quel dirigente politico ce ne vuole un altro ma rifacciamo quello che facevamo prima non è più così non è più così e questa cosa se volete ve la posso un po' declinare perché la transizione significa l'apertura di un conflitto epocale che è già iniziato da dieci anni o meno in termini formali è in nuce da almeno una quarantina d'anni e oggi sta avendo diciamo così il suo epifenomeno più lampante tutti si stanno accorgendo che il mondo non sarà più come prima ma tutti lavorano per ritornare al mondo di prima io quando sento questi giorni sto facendo molte assemblee e sto facendo anche molti incontri con dirigenti sindacali e politici anche privati diciamo lo schema che ripropongono è lo stesso e non hanno capito che lì sono morti 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 non c'è più nessuna possibilità non perché non bisogna fare per poco diciamo così quello di vecchio che rimane la vecchia modalità di conflitto ma è evidente che è così ma il problema è dove si sposta il centro il cuore dei processi e quindi qual è il mandato che tu devi tenere in campo allora la dico in questo modo noi perché siamo nati nell'ottocento cioè che cosa ci ha mosso a noi a noi ci ha mosso quello di avere un po' più di salario un po' meno d'orario o ci ha mosso improvvisamente l'idea che si poteva costruire finalmente l'uomo integrale cioè un uomo che si liberava dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e costruiva la propria vita poi per fare quello bisognava combattere il capitale e strappare le condizioni e far avanzare le condizioni delle masse ma non era quello quello era diciamo così quello che si faceva a caduta a valle della scelta noi oggi dobbiamo rimettere al centro il cuore della scelta che dobbiamo fare noi per rendere l'uomo libero questo è il punto altrimenti vince Salvini se tu vai oggi a fare politica indicando lo spostamento di punti di bilancio sei morto perché non hai più nel cuore la capacità di contrapporti a un'ipotesi sistemica questo è il problema e infatti tutti i partiti che sono stati delle sinistre più largamente intese e quasi tutte le organizzazioni sociali si rinzeccano nei loro confini a fare quello che gli rimane da fare io ve lo dico così francamente perché ci conosciamo da da tanti anni con alcuni quindi mi posso permettere di dire delle cose che in altri ambiti non direi perché potrei essere mal interpretato no? Io non è che ce l'ho con i migranti o ce l'ho con la battaglia che bisogna fare per difenderli sia singolarmente come diciamo così come obbligo di dargli una chance di sopravvivenza o processi di integrazione o che non mi rendo conto di quello che significa il rapporto tra il nord del sud del mondo ma è possibile che la sinistra a partire dal nostro paese sia assolutamente centrata sul tenue di questa natura e non abbia nessuna capacità e voglia di parlare delle condizioni materiali in cui vivono le persone che vivono qua perché questo è il punto io partecipo a parecchie apparecchie chat quelle più attive quelle dove si parla notte e giorno riguardano la condizione dei migranti a mio avviso perché noi scontiamo come dire un problema gigantesco un senso di colpa enorme ma proprio come individui per cui dobbiamo scaricare questa roba qua ma non ci occupiamo più per esempio delle condizioni in cui stanno le nostre periferie se non pochissimi dove tra l'altro questa cosa si incrocia in una condizione esplosiva ma questo qui è il punto e perché non siamo più in grado di fare questo perché noi noi abbiamo smarrito il senso originario del nostro fare noi siamo schiacciati tra la posizione etico morale di dire io non posso non occuparmi di quelli che muoiono nel Mediterraneo quindi mi occupo di quelli il resto chi vivrà vedrà e dall'altra parte la condizione totalmente diciamo come dire interna al sistema per cui devo ritrovare un equilibrio perché altrimenti mi saltano tutte le condizioni che io avevo costruito ragazzi una cosa è chiara il modello di welfare cioè le nostre società che avevamo costruito del novecento sono finite io questa cosa la dico da anni e il problema non è il covid il problema è l'impatto della tecno scienza nella produzione e il digitale è il chiavistello per fare questa roba qua oggi gli apparati produttivi del mondo sono in grado di produrre quindi proprio crisi di sovrapproduzione classica n volte quello che le persone possono consumare e domani mattina l'innovazione che noi stiamo spingendo con i soldi pubblici indebitando il mondo è un'innovazione che porta a una riduzione ulteriore degli occupati e quindi a una crisi ancora più avanzata dell'equilibrio del welfare che abbiamo costruito nel novecento qui sembra che non se ne accorga nessuno quando si fondò Sinistra Italiana io andavo a fare un intervento dicendo questa roba qua tutti gli economisti dicevano no perché qui e facciamo così la tendenza le cose io feci una sola domanda voi state calcolando l'impatto tecnologico sui processi produttivi la risposta no e lo sapete perché no? perché nessuno aveva letto il testo di Paul Romer non dico Sergio Bellucci perché ovviamente Sergio non è nessuno e quindi non è ma nessuno aveva letto il testo di Paul Romer del 1990 in cui spiega in maniera lampante ci ha vinto il premio Nobel nel 2018 se ne sono accorti 30 anni dopo gli economisti più avanzati non se ne sono accorti la stragrande maggioranza degli economisti e dei politici che l'informazione è si deve inserire nelle equazioni economiche e Paul Romer ci ha indicato come perché l'informazione è parte integrante e non sostituibile delle equazioni produttive e se tu non la inserisci non capisci più nulla di quello che sta accadendo dentro le aziende e dentro l'economia e questa roba dal 1990 in poi è esplosa in mille rivoli perché questa roba qui oggi non solo ha investito la produzione classica ma come dicevamo con Marcello Cini ha prodotto l'economia immateriale che ha nuove logiche produttive e nuove logiche di produzione e di professionalità e di ridistribuzione sono nate nuove forme della valorizzazione lo stesso lavoro noi dobbiamo ritornando ad essere marzisti in senso tecnico dobbiamo sapere che il lavoro salariato è una parentesi del lavoro non è il lavoro per sempre il lavoro salariato è una fase della vita della produzione di valore quella egemonizzata dal capitalismo governato dal processo denaro merce denaro ma quella roba lì oggi viene garantita solo perché dal 1929 il capitalismo finanziario quello che produce denaro per mezzo di denaro sostiene il ciclo in maniera strutturale altrimenti non sarebbe più in piedi dal 1929 il denaro merce denaro sarebbe crollato questo mondo quindi quando noi chiacchieriamo a bambera dicendo bisogna spostare dall'economia finanziaria all'economia industriale diciamo cazzate perché se crolla la capacità del sistema finanziario di sostenere il sistema produttivo inventando risorse dal nulla per tenere in equilibrio la domanda con l'offerta che altrimenti non starebbe in piedi il mondo crollerebbe nel giro di due mesi questa è la verità e il conflitto di oggi si pone sul fatto che c'è un nuovo modo di estrazione del valore che passa per l'informazione che sta provando a fare le scarpe al meccanismo finanziario il vero conflitto di oggi non è tra capitale industriale e capitale finanziario perché il capitale industriale vive solo se c'è il capitale finanziario altrimenti non sta più in piedi è tra il capitale finanziario e il nuovo capitale digitale perché qui c'è la novità vera con un'esplosione come ci dice Paul Romer della capacità dell'informazione di produrre denaro ma il denaro e l'informazione messi insieme danno un mix di potere che nell'era industriale non esisteva perché quando tu producevi una merce e producevi un profitto ti fermavi lì oggi tu produci conoscenza informazione che produce conoscenza conoscenza anche degli individui dei comportamenti personali delle delle condizioni materiali fisiche psicologiche degli individui e poi produci denaro questo intreccio sta producendo una oligarchia planetaria che si sta candidando a governare il pianeta anzi oserei dire che ormai è fatta ormai è fatta perché non c'è politica che sta a quel livello lì la politica sta facendo i conti con come faccio a creare attraverso i meccanismi finanziari un po' di finanza che serve a far funzionare l'economia industriale perché perché lì quello lì è l'unico modo che ho per redistribuire un po' di risorse e dare un po' di risorse ai boveracci per farli vivere ma questa roba qui è finita perché non ce la farò più a sostenere un equilibrio scordiamoci che si ritornerà a una società dove c'è la piena occupazione e per piena occupazione intendiamo il 10% di solitario scordiamocela allora il problema che io vedo è che qui noi siamo in una fase ma potrei declinarla su mille punti Roberti e Carlo la potrei declinare su mille punti e mille tatti ma noi se non torniamo ai fondamentali e cioè all'idea che noi siamo in campo per costruire una società di liberi di liberi che si autodeterminano di liberi che si autodeterminano riprendendo la formula marziana dell'unica formula che Marx ha definito del comunismo e cioè la società dei liberi produttori associati questo è il punto non dei salariati ben retribuiti dal capitale se noi non usciamo da questo schema qua e riproponiamo il cuore della riflessione noi abbiamo terminato il cioè possiamo fare quello che ci pare riunioni assemblee manifestazioni nel giro di pochissimo saremo cancellati dalla storia ma non come esigenza di costruire la società dei liberi produttori associati cancellati dalla storia come la sinistra otto novecentesca che ha fatto conflitto per avere un po' di ridistribuzione di salario e di orario da parte del capitale questo è il punto e io credo che questa cosa che molti considerano un gioco vabbè sì fammi parlare tanto poi dopo noi andiamo a rispondere al lavoratore dei posti al lavoratore da RAI al lavoratore da azienda metameccanica perché qui gli devo dare una risposta a quella condizione materiale in realtà quella roba lì è totalmente miope perché tra un po' mi potrà dare più neanche quel tipo di tutela che oggi gli garantisce ma non tra tantissimo tra pochissimo tra pochissimo sempre ammesso e non concesso che oggi già ancora diciamo ancora riesce a tutelare qualche cosa perché io siccome ho fatto il sindacalista un po' non lo ricordo io dopo l'accordo di luglio del 92 di Trentin io non mi ricordo un contratto nazionale in cui abbiamo strappato una cosa una una perché dopo quell'accordo ci fu la codeterminazione del dell'inflazione programmatica intorno alla quale si facevano le parti economiche dei contratti sulle parti normative ogni volta che cioè la prima parte contrattuale come si chiama una volta è carta a straccia perché ormai non si è consulta più nessuno ne manco delle aziende pubbliche per decidere le strategie quindi la prima parte dei contratti non c'è più la parte economica viene decisa dal dal governo sostanzialmente che dice alle parti quale 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 sono i contrattuali che fai e la parte di organizzazione del lavoro da quando è arrivato il digitale non c'è più un cacchio di senegalista che è in grado di capire come funziona una struttura informatica che dentro c'ha già l'organizzazione del lavoro interno questo è il punto per cui se la ciucciano così com'è non la contratta più nessuno l'organizzazione del lavoro quindi tu non contratti il plus valore assoluto perché il salario te lo dice il governo il plus valore è relativo perché l'organizzazione del lavoro te la dà la piattaforma per software la macchina come diceva il tizio il computer sì dovremmo forse fare il contratto di quelli che stanno davanti al computer perché tanto al 90% tutti lavorano con tutte le stesse piattaforme hanno Excel Word PowerPoint hanno la posta Gmail con quello lavorano allora facciamo il contratto nazionale di quelli che stanno davanti al computer che forse avrebbe un qualche milione di persone che riesce a dire capite la mia condizione di lavoro è questa quindi ho bisogno delle pause perché gli occhi mi vanno a puttani tanto per dirne una perché perché non ci vedo più dopo un po' sono morto ma noi questa roba qua non siamo più in grado di farla perché le categorie che abbiamo vi racconto un altro piccolo nonetto quando ero un segretario nazionale della mia categoria gli anni a fine degli anni 80 e inizi anni 90 la situazione era questa c'erano circa 78 contratti nazionali di cui 45 stavano nella mia categoria perché la Filis aveva 45 contratti nazionali su 78 e in CGL si discuteva che quella roba lì non era sostenibile perché lo spezzettamento che c'era era una cosa che non consentiva di costruire un'unità no? di immaginario anche non solo contrattuale ma proprio di immaginario di appartenenza ad un pezzo e si discuteva di come portare quei 78 contratti nazionali a 5 6 7 grandi mega contratti nazionali che contrattavano quella roba lì ovviamente questa cosa passava molto all'interno della mia categoria perché noi ce ne avevamo 45 di quei 78 avevamo già una mini confederazione di fatto che 45 contratti nazionali però noi ce ne avevamo dai ballerini alle figure del teatro per strada fino ai quotidiani alla RAI alle no le poste non c'erano alla SIAE decine di contratti però la nostra categoria non riuscì a chiudere a ricompattare nulla neanche quelli che facevano le scommesse per il trotto con quelli che che facevano i fantini dall'altra parte sapete quanti contratti nazionali ci sono oggi? no lo dico io 712 712 contratti nazionali di categoria voi pensate che questo qui è un modo con cui si fa sindacato? no questo è un modo per sedersi al tavolino dire al padrone che te serve bene questo è il contratto nazionale io te lo firmo che me dai adesso la dico così in maniera molto generale generica no? però è ovvio che non c'è più nessuna strategia confederale no? non c'è più un se tu vedi tutti i conflitti sono tutti conflitti corporativizzati perché riguardano quella singola fabbrica quel singolo insediamento produttivo non c'è più capacità di costruire un nesto tra due due settori in conflitto anzi due aziende non due settori due aziende in conflitto che stanno della stessa categoria che forse stanno dentro lo stesso territorio e stanno vivendo lo stesso dramma sono separati perché ognuno cerca la propria soluzione perché non c'è più un quadro che tiene insieme allora questa roba qua la dice la dice molto lunga su qual è il fronte però ci dà anche delle speranze completamente nuove perché perché questo vale per questa fase come per tutte le fasi della storia la storia ha due elementi che sono per fortuna insopprimibili uno sono le contraddizioni e l'altro sono le soggettività sono due elementi che per quanto vuoi costruire tutto il quadro poi alla fine queste cose riemergono allora dove sta il punto mentre il capitalismo digitale che si candida a costruire il proprio mondo e quindi le proprie istituzioni e quindi a superare gli stati nazionali l'idea della politica così come l'abbiamo conosciuta nell'8-900 guardate che già molte di quelle cose lì non ci sono più se voi vedete i poteri che oggi ha il Parlamento di una nazione rispetto a quello che ci aveva 70 anni fa 50 anni fa anche 40 anni fa sono completamente sbottati cioè quelli sono luoghi dove noi diciamo la sovranità ma lì già non si decide più niente perché le vere partite vengono decise da altre parti e quando si parla del digitale le cose sono addirittura più difficili perché non solo i parlamenti hanno difficoltà a comprendere a capire manca una classe dirigente manca chi si è interrogato in questi anni su questi territori e ha provato a dire non ci sta sono stati espulsi perché davano fastidio si ponevano in termini di egemonia anche all'interno delle organizzazioni per cui era meglio farli fuori occuparsi del pacchetto di voti che serviva per la lista elettorale o quelle altre casse dell'acqua ma mentre quindi il digitale sta tentando di costruire il proprio mondo con una velocità che i parlamenti non riescono a inseguire perché la velocità tecnologica ha un livello esponenziale io non adesso non è il caso se volete vi posso anche rinfacciare delle slide per farvi vedere che cosa significa questa roba qua ho fatto per un corso una una simulazione provando a dire un corso per l'EFT tra l'altro ma no era quello che facevo con con la nostra associazione Net Left in giro per l'Italia uno stipendio nel 1958 lo stipendio di un lavoratore medio era circa 40 euro 45 38 stiamo parlando di di quelle cifre là io ho fatto il parallelo di quello che dovrebbe essere oggi lo stipendio di lo stipendio di un mese di un lavoratore se lo stipendio avesse avuto lo stesso incremento che ha avuto la capacità di calcolo dei computer dei microprocessori e quindi facendo capire quello di cui si tratta no? Sapete quanto nel 2019 a fine 2019 dovrebbe essere lo stipendio con lo stesso incremento della capacità di calcolo ve lo dico io è complicato perché sono quasi 47 quintilioni di euro i quintilioni sono miliardi di miliardi questo è questo è questo è l'ordine di grandezza ma la cosa che dovrebbe far ragionare è che nel 2000 a metà del 2020 quei 46 quintilioni sarebbero diventati 100 quintilioni perché si raddoppia ogni 6 mesi quindi la potenza di calcolo con la dinamica di sviluppo di la potenza di queste tecnologie aumenta con un incremento che ogni 6 mesi raddoppia il dato e ingloba tutto quello che è stato negli ultimi 50 anni 60 anni e lo raddoppia questo è il punto allora voi vi immaginate cosa significa costruire regole per un mondo tecnologico che va a questa velocità ci dovrebbe una commissione permanente con capacità legislativa che funziona anche a 24 con i turni di riposo dei componenti che se no non gli stai dietro cioè non fai in tempo proprio a capire quello che succede è a provare a scrivere una norma a renderla efficace per che condizioni il modello di sviluppo che le aziende stanno avendo però la roba lì non esiste non solo ma gli Stati Uniti impediscono qualunque tipo di normazione perché ovviamente hanno un vantaggio strategico con i loro multinazionali e impongono con le loro scelte le dinamiche diciamo di sicurezza di controllo e di gestione del potere che sta dietro questa roba qua però mentre il capitalismo digitale sta facendo questa battaglia fortissima col capitalismo finanziario battaglia che trova ovviamente come per la battaglia del capitalismo finanziario e quello industriale momenti di convergenza momenti di rottura momenti in cui un soggetto prende un po' più di egemonia con l'altro impone delle cose no? accordi strategici il fatto che alcuni saltellano da una parte all'altra per cui c'hai il grande capitalista digitale che prova a prendere un pezzo del controllo della struttura finanziaria e la grande struttura finanziaria che prova a prendere il controllo della grande struttura digitale quindi un grande intreccio no? che questo è classico è sempre successo così pure nel passaggio dalla sua agricola a quella industriale siamo stati in presenza di soggetti che passavano dall'aristocrazia a fare le grandi aziende industriali quindi niente di nuovo su quel sole le condizioni però sono completamente diverse e mentre accade questa roba però la rivoluzione digitale mantiene al suo interno delle logiche che non sono comprimibili come quelle dei processi di socializzazione come quelle dell'apertura di contraddizioni su cui si potrebbe basare un conflitto di nuova generazione ma addirittura non solo il conflitto inteso in termini di capacità rivendicativa ma come esattamente fece Lenin di alleanza tra la vecchia classe sfruttata e la nuova forma di sfruttamento quando lui pensò al partito degli operai decuntativi e candidò questa alleanza a prendere il potere non averci un po' di conflitto in più la candidò a prendere il potere noi questo questo è il punto nella transizione la politica non si fa come si fa nei periodi normali e cioè chi sta sotto sta sotto rivendica un po' del spazio a chi sta sopra e comanda nella transizione siccome la classe al comando è vagante o meglio ce ne stanno due che configono chi sta sotto può candidarsi a prendere la parola e dire io voglio comandare però io ci do un'idea che non è quella di dire come faccio un po' come faccio un po' come dire di rivendicazione mi faccio un po' di cose io mi candido ad una nuova idea di mondo e questa roba avrebbe una potenza oggi enorme perché la gente ha bisogno di un obiettivo politico nuovo politico nuovo di nuove parole torni e vi assicuro che nei colloqui che ho avuto io in questi mesi con tutti gli ambienti vi assicuro che siccome nella transizione i confini tra le destre e le sinistre dell'era precedente si infrangono ci sono dei soggetti interessantissimi che ovviamente ci arrivano con la loro cultura con il loro portato diverso dal nostro questo non c'è dubbio ma se gli poni i temi in modo concreto e politico cazzarola che scompagginamento si può creare il problema è che ci vuole una classe dirigente nuova è chiaro che se noi abbiamo questa classe dirigente di questi partidicoli che o stanno al governo e quindi pensano a governare e pensano solo ai loro posti o pensano di essere i supporti a chi governa ricoprendo lo spazio di quelli che non sono proprio d'accordo però poi dopo i voti per i tempiati al governo li diamo e quindi garantiamo la copertura a sinistra come si sarebbe detto una volta per cui facciamo le stampelle un po' sceme che fanno vanno sulle piazze fanno le cose eccetera però poi dopo quando serve danno il voto a chi governa oppure abbiamo i partiti che usano le stesse parole che si sarebbero usate nell'Ottocento con i riferimenti sociali esattamente come se fossero quelli dell'Ottocento identici identici le stesse parole le stesse forme le stesse modalità se ci fosse Marx o Lenin i calci in culo si sprecherebbero ragazzi si sprecherebbero si sprecherebbero perché direbbero ma che cazzo state facendo scusate il francesismo cosa state combinando non abbiamo insegnato niente di quello che è la storia dei processi storici di come cambiano le ere di come cambiano i soggetti di come si trasforma la società l'unica cosa che conta è avere un'idea per cui andare cioè la liberazione dell'uomo dalla schiavitù dello sfruttamento quello è una bandiera che non viene meno e soprattutto se c'hai un'idea ci costruisci intorno a un progetto politico di un'altra società io credo che questo è il tema politico dell'oggi e il tema politico dell'oggi ovviamente parte attraverso due condizioni che ovviamente noi non possiamo tenere separate anche se nell'immaginario poi c'è sempre un primo e un dopo che la condizione materiale è la condizione del potere che puoi sviluppare e devi creare per cui devi parlare a quello che fa il telelavoro dentro casa lo smart working come hanno inventato bene con l'operazione di marketing perché smart working non esiste in nessuna parte del mondo esiste solo qua perché sono inventati un infiacchiettamento che serviva a dire al lavoratore tu non stai facendo il telelavoro dentro casa no? e stai mettendo a disposizione la tua stanza la tua connessione la tua energia la tua cosa per far funzionare la mia azienda no tu fai lo smart worker cioè sei molto per cui l'intelligente perché io te lascio a casa no? però bisogna prendere quella condizione lì la condizione di quelli che perdono il posto di lavoro eccetera e dargli un orizzonte politico nuovo non dargli quello che te riconquisto casomai un pezzo d'orario un pezzo di roba quindi bisogna ripensare un po' tutto che va dalla battaglia per il lavoro che ancora c'è quindi una battaglia per la riduzione dell'orario nuove forme ma non siamo riusciti neanche durante questa cosa del covid ad avere una una forma di mobilitazione europea da parte delle sindacate una cosa che dicesse tutti i lavoratori europei hanno diritto a due punti lo scaccolatore del naso perché quello lo devono avere tutti quanti quello automatico quello che è fatto sia niente ed è anche quello noi non riusciamo non solo a dire nulla sui paradisi fiscali o sui doppi livelli di contrattazione oppure sui dumping sociali che si fanno sui contratti nazionali niente noi non riusciamo a dire nulla sul piano politico a rivendicare soltanto un po' dei soldi dallo Stato per sostenere le imprese questo è quello che stiamo facendo che vi assicuro lo fanno meglio da soli i padroni non c'è bisogno che lo facciamo noi lo fanno di default quelle rivendicazioni sono bravissime le portano a casa molto meglio di quanto noi portiamo a casa le nostre condizioni ovviamente tutta questa roba ci ha avuto una serie di miopie io adesso lo dico a rosso perché prima citavo i lavoratori della conoscenza il grosso errore che abbiamo compiuto in parte anch'io tra gli anni 90 e il primo decennio di questo secolo e che abbiamo pensato sbagliando perché non abbiamo capito la profondità della trasformazione digitale che al soggetto operaio si sostituisse questa cosa ha avuto in molti gruppi un grande un grande fascino il lavoratore della conoscenza cioè trasformazione perché noi siamo sempre alla ricerca del soggetto perché siccome questa cosa si è stata detta noi se non abbiamo il soggetto non sappiamo discutere noi non pensiamo all'individuo alla società noi pensiamo al soggetto perché non ci siamo resi conto che dentro questa nuova società liquida le cose erano diverse però lì abbiamo commesso un errore gigantesco perché il lavoro della conoscenza non poteva essere il nuovo operaio per una serie di cose che se volete ne parleremo anche lungamente ma per due motivi comunque macro uno che il lavoro della conoscenza non è il lavoro salariato cioè a forme diverse due perché la produzione di conoscenza segue meccanismi che il capitale non riesce a inglobare al punto che come io sostengo da una vita si è inventato delle forme completamente esterne quando noi abbiamo avuto l'emersione del lavoro implicito con le piattaforme e adesso stiamo vedendo l'emersione del lavoro operoso che è stato gigantesco sotto la vicenda del covid noi già cominciamo a vedere nuove forme di lavoro che non sono più salariate in parte non sono salariabili che stanno producendo valore e si stanno sostituendo all'interno del corpo sociale facendo perdere enorme spazio al lavoro salariato classico questo qui è il punto centrale i soggetti mutano cambiano cambiano le forme del conflitto cambiano le modalità se vogliamo essere all'altezza dei nostri padri dobbiamo sapere che gli schemi che ci hanno consegnato anzi no i risultati degli schemi perché gli schemi erano sempre quelli analizzare i processi sociali per la loro concreta materialità e non mettendoci il cappello sopra delle nostre idee ma i risultati che loro hanno ottenuti erano diversi perché la società alla quale applicavano quel metodo era diverso non si può fare altrimenti se tu hai l'analisi marxista e ti basi su una società che ha soltanto il capitalismo industriale hai un risultato se tu fai la stessa analisi dove c'è sa pure il capitalismo finanziario ce n'hai un'altra e se tu fai la stessa analisi quando c'è il capitalismo digitale ne fai un'altra ancora se ritorni allo stesso risultato dell'ottocento perché pensi che quello lì salvaguardia la tua classe ma capito cazzo stai sbagliando completamente cioè stai disattendendo il messaggio scientifico che stava alla base del pensiero delle nostre origini perché tu devi partire dalla condizione materiale concreta con la quale si fa il conflitto come si produce il valore e dove stanno le cose se non mi fermate io vado avanti fino a domani mattina mi fermo io il problema è trovare lo spazio in cui tu possa dire queste cose con un contraddittorio che le renda assorbibili e con dei punti fermi che possano trasformarle in una proposta politica attuale da fare io credo che siamo in 4 5 qualcuno passava ti sentiva a parlare si fermava avrebbe voluto acchiappare quello che dicevi io sono disponibile per quello che posso a lavorare con voi su questa cosa ad libitum e penso che sia la strada da percorrere personalmente ti ringrazio tantissimo Sergio non ti conoscevo mi ha fatto davvero piacere conosci piacere è tutto mio io io personalmente credo che questa sia la grande rifondazione io arrivai a rifondazione con questo spirito cioè di rifondare un pensiero non di rifondare il partito comunista che c'era lui ero stato militante e tra virgolette piccolo dirigente è esattamente questo spirito per cui anche io mi sono avvicinato diciamo per l'innovazione culturale purtroppo la maggioranza di quel partito pensava altre cose e quindi le cose come dice come dice tu lo stesso Pausto poi su questi temi lo dice bene no no ho avuto dei discorsi che tu nel 91 osò dirmi che se pensavo queste cose qui non ero comunista quindi non lo immaginavo ma in uno schiazzo non da piccolo Corrina Cagliardi e altri compagni una sera ti disse va bene io vorrei facciamo il punto diciamo io innanzitutto vorrei utilizzare un po' di questo materiale qua magari già togli le parolacce esatto tagliando no quelle e poi magari incominciare a ragionare su appunto un evento un webinar un incontro mettendoci scusate è che cosa devo fare Roberto io ormai di questo bisogna cominciare a ipotizzare una struttura organizzativa cioè che ovviamente non deve essere né ottocentesca né né totalmente grillina cioè deve essere una cosa intelligente perché il problema non è né rifare quello che eravamo né fare i modelli è usare in maniera intelligente le tecnologie che abbiamo per fare cose che invece hanno una radice se noi non cominciamo a pensare a un modello organizzativo e anche ad aggregare le persone io di questa roba sai quanto ne ho fatto tantissime tutte le persone mi dicono cavolo Sergio ma allora che facciamo e allora ci vuole un'organizzazione perché da soli non si fa nulla e se noi non mettiamo in campo un'organizzazione io ero andato anche devo dire la sincera verità ero andato anche in Germania per parlare con la Lidica dove gli ho fatto questo ragionamento forse la traduzione che hanno fatto non era particolarmente efficace o fedele rispetto alle cose che dicevo io c'era parecchio interesse c'era l'idea di fare un paio di incontri seminariali lunghi dopo un incontro che ho avuto a Berlino io ho la sensazione che qualcuno da qua abbia dato un input negativo forse sono anche chi è però non mi interessa molto questo però noi come Transform abbiamo un'indipendenza che ci consentirebbe di farlo di passare proprio di che bypassiamo gli ostacoli no tu lo sai a me non mi importa moltissimo che poi alla fine dico che dobbiamo cominciare a pensare e anche a pensarci come il nucleo che sta costruendo una cosa nuova bravo perché tanto è inutile cioè la dico così perché sono tutti amici no se io se io devo aspettare di convincere Fausto o Niki adesso per dire due che non ci sono più e quindi non non parlo degli attuali che questa è la linea giusta io morirò insieme a loro anzi morirò e non riuscirò a convincere perché loro sono un'altra cosa non ci stanno su questi elementi bisogna costruire un'organizzazione di chi pensa che questa roba qua sia la nuova forma della politica esatto ovviamente con regole democratiche regole di partecipazione tutto tutto quello che possiamo immaginare però che c'ha questa come riflessione centrale e ripeto non è che deve essere la mia io pongo soltanto degli elementi benvengano altre riflessioni altre cose però su questo terreno qua perché se invece siamo da altre parti va bene dai ci aggiorniamo prestissimo mantenendo impegno a fare un'iniziativa intanto così diciamo propedeutica e poi a costruire poi invece quella la scatoletta diciamo quando in tanto far riconoscere le persone perché ce ne sono molte che potrebbero un appuntamento preciso in cui si dice noi andiamo a costituire una cosa che sta su questo terreno è un laboratorio aperto è una cosa però c'ha c'ha voglia di costruire un orizzonte perché altrimenti non andiamo a nessuna parte poi oh se abbiamo la forza e la intelligenza e la capacità bene se no ci abbiamo provato per l'ennesima volta per me sarà l'ultima perché poi mi tiro a vita privata andiamo in pensione a un certo punto cosa? andremo in pensione dico pure noi questo non ci avranno mai ma insomma almeno mentalmente vado in pensione scrivo quello che mi viene in mente e lascio agli altri fare insomma questa è un po' la cosa rosso che dici? no beh ci sei? non apriamo dibattito adesso non c'è nessun dibattito da aprire è che come sempre poi queste riflessioni si sposano col dato come dire anche addirittura antropologico nel senso che è un po' il fatto che bisogna modificare il fare delle persone attraverso il fatto che tu cominci a a farli riflettere sulle cose che sono state dette e il loro fare quindi tu gli dai un orizzonte globale una chiave interpretativa e a quel punto ovviamente gli dai una che poi è quello che è successo alla nostra generazione cioè una dimensione che è quello della deliberazione che va oltre qualsiasi dimensione immediatamente rivendicativa perché poi il problema è che o questo tutto questo si incarna nelle persone in cui faranno tutti gli errori del caso come sempre magari non troppo tragici possibilmente però se questa rete di cui si parla per l'appunto poi non diventa non si compone di soggetti che per un verso appunto scoprono come il mondo e là c'erano il famoso velo o i famosi vevi e dall'altra diventano essi stessi una mediazione nei confronti degli altri perché come dire conosco noi stiamo pensando al fatto che stiamo aprendo in un discorso di vertenza territoriale nella valle del sacco e mentre parlavamo visto che mi sono sempre occupato di queste tre questioni di cui stiamo parlando ora mi sono sempre occupato negli ultimi decenni di questioni territoriali scusa Roberto scusami un attimo vai vai prego ti do tre minuti Roberto per chiudere no no finisco finisco subito nel senso che per l'appunto adesso aspettiamo un attimo suo arrivo un'ora di tempo seggio parla molto lungo ha fatto una specie di saggio sì esattamente no ma voglio dire io personalmente mi ci ritrovo con tutte le aporie del caso nel senso di questo pensiero ha una serie di aporie che è su cui nel senso che è superato l'illusione sul cognitariato è superato il fatto di superare di salvarsi col fatto che c'è la moltitudine tra attacchi al pifero mentre invece la questione è la complessità di questa roba come dire è un problema di carne viva nel senso che è di passione che tu metti in questa in questa questione più perché è la contraddizione che lui tira fuori denaro denaro informazione che è la questione ecco stavo dicendo quindi che questa rete di cui parliamo appunto deve avere questa passione passami il termine concreta e utopica in grado poi di di interpretare le realtà determinate in cui opera io facevo l'esempio del fatto che io da due anni sto lavorando un discorso di vertenza territoriale che se c'è una roba appunto che uno dice vabbè ma che cavolo dove tra l'altro in un territorio tra virgolette arretrato e disastrato che è la valle del sacco con le ferro questa roba qua ex area ex zona industriale ricca eccetera dove però scusatemi la questione ambientale di cui su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni permette in realtà di fare delle riflessioni assolutamente sganciate da una banale rivendicazione eccetera dove il lavoro si è costretto a negarlo e vabbè insomma quindi in questo momento secondo me questa riflessione sulla su questa rete va e sulle sue caratteristiche va a volte perché la questione della forma organizzativa che è assolutamente necessaria e la sua attualizzazione ovviamente poi ovviamente lo metto io come intercalare ma non è ovvio per niente deve fare i conti proprio con visto che siamo in una fase di transizione con quella che è la dimensione antropologica di questa rete è un po' che poi ha a che fare con le scelte perché se citiamo Lenin eccetera il tutto c'è il problema della decisione dei tempi della decisione e del calare concretamente perché poi come dire da una parte c'è la ricchezza del pensiero dall'altra c'è la potenza della capacità della decisione dell'assumersi del rischio e di un rischio collettivo di un rischio organizzato di un rischio condiviso e lì perché a quel punto se parliamo di organizzazione parliamo di questo non parliamo di una teoria che ci salva nel momento della decisione ma esaltiamo gli strumenti e la potenza del soggetto organizzato in questo caso si può parlare di soggetto che va a decidere quindi diciamo si apre un campo che come dire giustamente e qui la chiudo Sergio ha una grande esperienza d'organizzazione io ho un'esperienza d'altro genere un po' più suicida ma abbastanza ricca e come dire i giovani con 3G con cui stiamo penso tutti cercando di lavorare sono un bel problema in questa società del crollo demografico e qui la finisco insomma certo no come diceva Sergio nell'introduzione il capitalismo si è creato l'uomo che gli serve insomma questo è il punto esattamente guarda è uno è uno dei passaggi di americanismo esterdismo di Gramsci che mi formò a frattocche quando c'erano i corsi di frattocche perché è più illuminante è vero purtroppo il capitalismo si costruisce il soggetto però si costruisce anche il soggetto che lo tratta perché la roba lì ovviamente per quanto è costruita ha poi delle sue dinamiche delle sue richieste per questo dico l'orizzonte dell'uomo integrale perché oggi questo è possibile fare e le piazze del mondo i giovani si sono mobilitati su questo no una nuova forma della vita e di armonia col pianeta tocca suscitare la passione perché se non c'è quella pensi che si costruisce l'egemonia attraverso lo zero virgola del TIL è spostato da una parte del bilancio a un'altra parte assolutamente quella neanche a noce ci muove più ma da vita anche perché non sposti in una virgola ma perché lo sai dove va a finire insomma esatto va bene va bene va bene grazie ancora grazie grazie a voi a presto ciao